Ah ah ah, troppo forte. Che cosa? No, è che stavo insieme alla mia collega Luciana e stiamo benissimo. Ancora? Non sei giudice di Tania Scottale? Vuoi la prova? Ho la prova che sono... Guarda, vediamo. Matteo, vedi? Io sto insieme all'altra mia collega Luciana, vedi, completamente cosciente. Luciana, come stai? Sto bene, siamo i miei colleghi. No, è con me si rilassa. Lo siamo, è vero. Sei il giudice più talentoso che abbia mai visto, ma non ci metti che me lo segui. Io amo te, io vorrei stare sempre inzima a te. Ma vuoi finire Luciana che è troppo? Questo è troppo per me, ma te hai visto? C'è adorazione qui, io e lei siamo così. Hai visto che sei un idiota e non ridi me a quello che dico? È lui, è lui che mi ha truccato, è lui che mi ha truccato, è lui che mi ha truccato. Faccio il figlio, screddino, porto la parana.